Fra i programmi che hanno maggiormente caratterizzato la seconda parte di 2022 della Regione Marche c'è senz'altro quello della riforma sanitaria, riforma che in questo anno 2023 si concretizza. Ne parliamo con Nicola Baiocchi che oltre ad essere consigliere regionale è presidente della Commissione Sanità. Quali saranno i primi passi concreti di questa riforma a partire da gennaio? Da gennaio ci sarà una svolta, una svolta epocale, una riforma che è stata concertata sui territori, è stata frutto di un ascolto e abbiamo assolutamente partorito un testo molto importante, molto utile che deve essere messo a terra. Il primo gennaio entrerà in vigore questa nuova legge che cancella ASUR, cancella Marche Nord, l'area vasta, in questo caso per rimanere sul tema della nostra provincia e creerà un'asta territoriale importantissima che avrà una funzione di efficientamento nel territorio e cercare di riuscire a fare quello che non è riuscito a fare prima, la vera integrazione territoriale e unire le competenze dei nostri ospedali, dei professionisti, delle eccellenze della nostra costa con l'entroterra e quindi le figure del nuovo direttore generale, del direttore sanitario e amministrativo e dell'integrazione sociosanitaria saranno sicuramente figure fondamentali per riuscire a colmare quel gap di servizi che purtroppo finora non ha funzionato. Che tempi vi siete dati per l'organizzazione di questo nuovo assetto? Allora a gennaio verranno nominati dei commissari, protempore, chiaramente per circa un paio di mesi, poi vedremo un attimino quale sarà il tempo necessario per traghettare questa operazione e per poi nominare i nuovi direttori generali che dovranno essere persone di spiccata esperienza e capacità professionali e giuridico-amministrative su un tema molto delicato e molto complesso, non possiamo sbagliare, è un'occasione epocale per cambiare il sistema e dobbiamo andare spediti verso questa nuova organizzazione.